Tu parli molto di Tenko, noi abbiamo l'immaginario di lui come un personaggio cupo, ma tu invece lo definisci un cazzone. Era uno che faceva gli scherzi con me, ne ha fatti due o tre sanguinosi proprio. Per esempio che scherzi faceva? Prendere il nuovo cittadino, cioè il giornale di Genova, che aveva 5-6 pagine, metterlo per terra a cagarci sopra, metterlo per terra, ci si fa una bella merda in mezzo e poi si chiude come fosse un pacco. Poi si mette davanti alla persona che ti sta sui coglioni, suoni e dai fuoco alla carta.